È stato veramente un anno straordinario, è il decimo anno che abbiamo istituito questo concerto di Natale con i più piccoli, il coro di voci bianche del Teatro Verdi di Salerno. È per noi un fiore all'occhiello e siamo veramente felici, ma vedere tutti questi bambini, sono 80 bambini che partecipano sempre all'assiduamento a tutte le produzioni che facciamo, perché noi ogni anno, quest'anno per esempio c'è stato Carmen, il coro di voci bianche, Turandot, l'anno prossimo metteremo un altro titolo, sempre uno o due titoli con questi bambini. Devo ringraziare l'amministrazione che ci dà sempre il suo contributo e non ci fa mancare mai il sostegno, il maestro Dani Loren che ha voluto fortemente il coro di bambini perché lui nasce come musicista dal coro di bambini in Israele. L'ha sempre voluto, come dicevo oggi sono una bellissima realtà, oramai ogni anno il 25 alle ore 11 c'è un concerto dei bambini al Teatro Verdi. La cittadinanza è invitata a partecipare, quest'anno c'è anche l'orchestra dell'Alfano I del liceo musicale che accompagnerà appunto i bambini in questo concerto. Sicuramente sarà un momento per scambiare gli auguri con la città e con tutti i bambini della città di Salerno, siamo molto fieri. Io personalmente sono felicissimo, stamattina venendo qui ho incontrato dei bambini, delle signore che mi dicevano Maestro ma questi bimbi ci credono veramente, dico beh ci crediamo anche noi, noi ci crediamo veramente e è bello che loro già sin da piccoli credano in questo progetto nella musica e nell'amore verso il teatro. Grazie